Domani martedì 23 ottobre il Parco archeologico di Pestum ospiterà il terzo appuntamento della tournée promozionale dello slalom notturno di Coppa del Mondo FIS in programma sabato 22 dicembre a Madonna di Campiglio. Un incontro con autorità, amici e appassionati in vista della 65esima edizione di una gara simbolo dello sci italiano. È un viaggio nella sua storia con un emozionante racconto fra video ed immagini esclusivi a cura dello storico Paolo Luconi Bisti.